Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. In questo video torniamo a parlare di Word, di formattazione dei paragrafi e vediamo nello specifico i rientri, cosa sono e a cosa servono. Rientro significa far rientrare una parte del testo, una parte o tutto il testo, rispetto al margine preimpostato. Quindi io posso voler avanzare, ad esempio, la prima riga di un paragrafo, in questo caso lo faccio con un po' di spazi, e in questo modo ho ottenuto un rientro. In genere questo è proprio il rientro che si fa solitamente, si chiama rientro di prima riga e la prima riga di un paragrafo viene avanzata rispetto al resto per aumentarne la leggibilità. quindi potrei andare in un altro paragrafo e rientrare nuovamente la prima riga. Fatto così però non è molto pratico, in primis perché non è uguale, quindi è difficile fare tutti i rientri uguali e stanno bene solo se sono uguali. E poi ci si impiega tanto e poi se a un certo punto, a fine documento, dovessi dirmi, ma ho esagerato con il rientro, aspetta che lo voglio tirare un po' indietro, è un lavoro troppo grosso. Quindi si utilizzano altri sistemi e c'è un formato apposito per i rientri. Un altro modo artigianale di fare il rientro è quello di usare il tabulatore, quindi un tasto apposito che serve per spostarsi a scatti all'interno della nostra pagina. Questa volta lo andiamo a vedere il tabulatore, quindi accendo un'altra telecamera, eccola qua, questa è la mia tastiera, questo è il tasto tabulatore. Se premo qui, devo posizionare ovviamente il cursore, prima mi posiziono qui con il mio cursore, premo il tasto tabulatore ed ecco che ho ottenuto un rientro. Mi posiziono all'inizio del prossimo paragrafo, premo il tasto tabulatore e ho ottenuto il rientro. Certo, il rientro è di una determinata misura, è troppo, in questo caso non mi piace, vorrei fare un po' meno, eccetera, e quindi anche il tabulatore non è una buona soluzione. Quindi vado a cancellare le tabulazioni date per tornare all'origine. Benissimo, andiamo a spegnere la telecamera che al momento non ci serve e lavoriamo solo sul test. Quindi in Microsoft Word, ma in tutti i programmi di videoscrittura, c'è un apposito comando per gestire i rientri. Sì, perché i rientri non sono uno solo. Noi abbiamo visto questo di prima riga, ma ce ne sono altri. Allora, innanzitutto, per poter utilizzare i rientri è fondamentale poter vedere il righello. Questo, questa scala graduata che noi vediamo qui orizzontalmente e qui verticalmente è il righello. Serve a misurare le distanze del nostro foglio. Questi numeri sono centimetri, quindi questo è un 2, significa 2 centimetri. Dal punto di scrittura, quindi dal margine sinistro, ci sono 2 centimetri. Questi sono 2 centimetri di margine in cui noi non andiamo a scrivere. Questo è un centimetro dal margine, quindi questo è il punto 0, mezzo centimetro, un centimetro, due centimetri, eccetera, eccetera. Questo è il righello. Serve, per forza di cose, per poter fare i rientri, perché il comando rientri, questo, si trova lì. Anche se potrei utilizzarlo anche dalla finestra paragrafo, da qui potrei trovare i rientri, è molto più comodo utilizzare questo. Quindi, per prima cosa, accertiamoci di poter vedere il righello. Vado su visualizza, premo, eccomi qua, e qui trovo il righello. Eccolo qua. Righello acceso, righello spento. Così non ho le indicazioni di misura nel mio foglio, così invece sì. Per cui, prima cosa, accendere il righello. Torno in Home e ora lavoriamo sui rientri. Innanzitutto, devo selezionare il paragrafo in questione. Noi sappiamo che ci basta posizionarci semplicemente all'interno del paragrafo per poter utilizzare il rientro. Proviamoli. rientro di prima riga. Quindi noi utilizziamo questo indicatore, questa cosa che sembra una clessidra. In realtà sono tre oggetti distinti, un rettangolo e due triangolini. Prendo il triangolino superiore, si chiama rientro di prima riga, lo trascino avanti nel testo a piacere, lungo il righello, ovviamente. Lo metto più o meno su due. La prima riga del paragrafo si posiziona in quella zona, lì dove ho messo il rientro di prima riga. Se dovessi fare tutti i paragrafi uguali, quindi per tutti i paragrafi lo stesso rientro di prima riga, mi conviene farlo a tutti contemporaneamente piuttosto che andare a selezionare ogni singolo paragrafo e ritrascinare l'indicatore, perché in quel caso mi è difficile posizionarlo sempre perfetto al millimetro. Quindi, seleziono il paragrafo, riporto il rientro a zero, seleziono uno o più paragrafi o tutto il documento, in questo caso mi accontento di questi paragrafi, porto il rientro di prima riga a uno, più o meno, ed ecco che tutti i paragrafi rientrano la prima riga in quella posizione, compresi questi titoli, perché questi sono paragrafi comunque di una riga sola. Se non li volessi lì, dovrei a questo punto andare qui e riportarli indietro e ottenere questo effetto. Ma tutto sommato mi piace così, quindi annullo e ho il mio rientro. Questo è il rientro di prima riga. Ok, riportiamo tutto a zero, lo faccio più facilmente da qui annullando l'ultima formattazione e ci siamo. Vediamo invece cosa fanno gli altri due comandi, il triangolino inferiore e il rettangolo. Seleziono sempre un paragrafo, il primo in questo caso, prendo il triangolino inferiore e lo sposto avanti. Questa volta rientra tutto tranne la prima riga. Si chiama questo rientro sporgente. Rientro sporgente. Ti faccio notare che triangolino e rettangolo si sono mossi insieme, perché sono saldati tra loro. Fanno due cose diverse, quindi se io vado ad agire sul triangolino ottengo il rientro sporgente. Se io invece vado ad agire sul rettangolo ottengo, andiamo a vederlo, il rientro sinistro. Quindi sono due comandi diversi, ma quei due oggetti sono saldati tra loro. Quindi abbiamo visto che il rientro sporgente, quindi il rettangolino basso, rientra tutto tranne la prima riga. Quindi fa il contrario del triangolino sopra che comanda la prima riga e non il resto. Se io voglio utilizzare il rientro sinistro ottengo questo effetto. Allora, riporto tutto quanto indietro. Eccoci qua. Il rientro sinistro, quindi mi assicuro di essere nella posizione giusta, comanda tutto il paragrafo, comanda sia la prima riga sia il resto del testo e ottengo questo effetto. Tutto il margine va avanti, tutto il paragrafo si sposta dal margine e viene scritto più avanti, ottenendo quello che è questo rientro, abbiamo detto sinistro, che è molto simile al rientro destro. Infatti, sul mio righello trovo all'estrema destra questo altro triangolo che si chiama rientro destro. Vediamo se il computer ce lo mostra. Rientro destro e io posso andare a rientrare il paragrafo e quindi anticipare per quel paragrafo il margine destro e il testo va a capoprima a tutti gli effetti. Annullo tutto quanto perché voglio farti vedere un modo diverso di utilizzare il rientro sinistro. Quindi, io sono posizionato su questo paragrafo. Ottengo il rientro di prima riga, eccolo qua, più o meno a 1, un po' meno di 1, ok? E ora decido di rientrare comunque tutto il paragrafo rispetto al margine sinistro. Quindi, prendo il rettangolino basso, lo avanzo sino a 2 e lui, spostando tutto, quindi la prima riga e anche tutto il resto, mantiene il rientro di prima riga del paragrafo con le stesse proporzioni di prima perché i due triangolini si spostano insieme e quindi mantenendo le rispettive posizioni. Quindi, questo è un ulteriore utilizzo dei rientri. Bene, facciamone un uso pratico. Andiamo a vedere un uso pratico di questi rientri. Allora, innanzitutto, questo lo rimettiamo a posto, quindi torno indietro. Ok. Vado ad aprire un documento che abbiamo utilizzato in un video abbonati. in questo caso utilizzo i rientri. Eccolo qua. Rientro di prima riga, rientro di prima riga, rientro di prima riga, rientro di prima riga. Ma ho utilizzato il rientro di prima riga anche per arrivare sino a qui. Quindi, distinti saluti, marco, eccetera, sono due paragrafi di una riga selezionati e ho utilizzato il rientro sinistro per andare avanti in quella posizione. Molte volte viene utilizzato l'allineamento a destra ma si otterrebbe un effetto diverso. Questo. Se io utilizzo l'allineamento a destra, distinti saluti e marco arvati sono allineati al margine destro che non è esattamente la stessa cosa del avanzare il testo nella pagina mantenendo il margine sinistro. Quindi torno con l'allineamento sinistro il testo è avanzato allineato a margine sinistro. Ma adesso vediamo una particolarità sui rientri. Quindi prendo un nuovo foglio vado in file documento vuoto e devo scrivere un nuovo documento. Questo documento sarà una lettera ad associazione maggiolina. Quindi questa pagina una volta che sarà stampata sarà piegata e infilata in una busta con finestra. Ora ne ho qui una, te la mostro. Andiamo a vedere la busta con finestra. Eccola qua. Busta già utilizzata e riciclata con appunti vari. Quello che vogliamo ottenere è il testo scritto esattamente all'interno della finestra. Quindi io voglio scrivere l'indirizzo di associazione maggiolina qui nella mia pagina di Word e voglio vederla apparire esattamente qui nella finestra della nostra busta. Come facciamo? Allora facciamo in questo modo. Ci posizioniamo qui e vediamo. potrei andare a tentativi e sprecare un sacco di carta oppure potrei prendere un righello ora io un righello non ce l'ho ma ho un metro da muratore possiamo utilizzare quello e misurare la distanza dal margine. In questo caso se mi posiziono a margine vediamo se ci riesco vedo che la finestra inizia circa a 10 centimetri 10 centimetri e mezzo 10 centimetri dal margine sinistro. Quindi io devo posizionare il mio rientro sinistro in quella posizione se qui inizia a 10 centimetri mi posiziono a 11 o 12 quindi trascino il mio rientro sinistro sino a 11 o 12 in questo caso ho sbagliato devo posizionarmi bene eccolo qua lo metto a 12 10 11 12 meno qualcosa eccolo qua quindi questo è il mio rientro sinistro. ora devo spostarmi dal margine superiore ah però io mi sono spostato verso 12 però devo considerare che ho 2 centimetri di margine perché lo 0 è in questa posizione quindi non va bene questo quasi 12 devo tornare indietro di 2 centimetri quindi qui quasi 10 per essere a una distanza totale di 12 centimetri più o meno dal margine sinistro. stessa cosa col margine superiore per cui di nuovo col mio righello vado a misurare 5 centimetri dal margine superiore in questo caso mi trovo in difficoltà perché il righello è troppo lontano quindi zoomo la pagina per vedere più in grande e per avere il foglio più vicino al righello il circa 5 centimetri qui ma c'è lo stesso discorso 2 centimetri di margine quindi circa 3 centimetri è qua per cui vado a capo vado a capo vado a capo e vado a capo per essere più o meno allineato ai 3 centimetri quindi a questo punto se io scrivo qua il mio indirizzo dovrebbe andare a finire esattamente all'interno della finestra proviamo quindi scrivo spettabile associazione culturale maggiolina inventiamo un indirizzo viale dei gelsomini 128 barra b milano perfetto stampiamo e proviamo quindi faccio file stampa eccolo qua scelgo la stampante è già impostata la mia hp stampo il documento ecco che la stampante lo stampa togliamo dalla busta il documento vecchio lo mettiamo da parte e ora ci prepariamo con il documento nuovo tendiamo che la stampante lo faccia uscire eccolo qua questo è il nostro foglio proviamo a piegarlo e qui chiaramente a seconda di come lo pieghiamo può risultare giusto o sbagliato ma cerchiamo di piegarlo giusto eccolo qua quindi questo è il mio documento piegato lo infilo nella busta ed ecco che l'indirizzo risulta posizionato all'interno della finestra bene mi auguro che questo video ti sia piaciuto e che tu abbia imparato qualcosa in questo caso puoi mettere un mi piace premendo sul pollice in su che c'è qui sotto puoi iscriverti al canale e attivare la campanella se ancora non lo hai fatto in questo modo sarai avvisato all'uscita del prossimo video e ora puoi anche abbonarti al nostro canale e vedere sempre qui su youtube i video riservati agli abbonati tra cui quello di esercitazione che registrerò subito dopo ci vediamo presto ciao 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 ciao